Sembra che Salvini sia salito al colle per la brutta faccenda dei 49 milioni di euro che la Lega ha evidentemente male utilizzato, sprecato, ricevuto in non si sa bene in che modo e non rendi contatto. Ora che cosa c'entra il Presidente della Repubblica con i debiti della Lega? Non lo so. Sono sicuro però di una cosa, che questo atteggiamento di sperare è che il Presidente della Repubblica possa intervenire in qualche modo su qualcosa che riguarda il partito o se preferite il movimento politico della Lega per come ha ottenuto e utilizzato i fondi è un'operazione che ha molte caratteristiche, queste sì populiste. Salvini sta riconoscendo al Presidente della Repubblica poteri che non ha, a meno che non sia già andato a chiedere la grazia, la grazia per i soldi malamente utilizzati dal suo predecessore ma certamente sotto la sua guida quando lui era già diventato il capo, il capitano della Lega. Questo è populismo. Dovrebbe imparare Salvini, non l'ha ancora imparato Di Maio ma non importa, avranno purtroppo il tempo di aspettare che lui impari qualche cosa. Dovrebbe sapere che uno dei principi cardine delle democrazie liberali è che i vari poteri non si incontrano su tematiche specifiche ma si contrappongono quando è necessario, che non c'è nessuno che decide su tutti gli altri poteri. Il Presidente della Repubblica deve fare comunque i conti con il Parlamento. Ugualmente la magistratura fa i conti con il Parlamento che può legittrare in materia, d'altro canto il Presidente della Repubblica non può imporre nulla al Parlamento se non quello che sta scritto nella Costituzione e al tempo stesso la magistratura ha l'obbligo di portare fino in fondo i processi e di giungere a decisioni. Una volta prese quelle decisioni sono non controllabili a meno che non ci sia un ulteriore ricorso alla Corte Costituzionale che non mi pare Salvini abbia fatto e che mi pare assolutamente improbabile. Siamo di fronte da sbandate populiste, l'idea che c'è qualcuno che controlla tutto, in questo caso il Presidente della Repubblica o peggio l'idea che i partiti dettano al Presidente della Repubblica, che era quello che Di Maio ha cercato di fare quando voleva Savona al Ministro dell'Economia. È una brutta storia, però è una storia che ha radici, radici nella conoscenza limitata, forse addirittura esistente, della Costituzione italiana del puntamento delle democrazie parlamentari e che non ci raccontino che tutto questo non sarebbe successo se nel referendum costituzionale avesse vinto il sì. No, quel sì conteneva alcuni elementi che probabilmente erano, diciamo così, extracostituzionali e quasi sicuramente erano anche incostituzionali. E quindi no, l'origine di tutto questo è nelle forze politiche e nell'ignoranza del loro leadership e, ahimè, degli italiani che li hanno votati.